In Italia sono pochi e in Veneto, fino ad ora, queste due piccole vetrine affacciate su Porta Savonarola a Padova sono l'unico luogo fisico dove comprare e vendere bitcoin ed altre criptovalute, un mercato nuovo ma che già movimenta valori per miliardi in tutto il mondo. Quello delle criptovalute affermano senza dubbi i due giovani titolari, che hanno entrambi poco più di 20 anni, sarà il mercato del futuro. Le principali criptovalute sono quattro, bitcoin, litecoin, ethereum e ripple. Le criptovalute sono una moneta digitale ma per quanto virtuali sono impossibili da falsificare. Noi pensiamo che in un futuro, anche prossimo, tutti noi potremo acquistare beni e servizi pagando con criptovalute e questo è il nostro scopo. Una cosa importante che molti non capiscono è il fatto che non è necessario per forza convertire un bitcoin, quindi se la quotazione adesso di bitcoin è di 5.600 euro, quindi convertire 5.600 euro in bitcoin, ma si può anche convertire frazioni di bitcoin come 0,5 bitcoin o 0,4 bitcoin. Una sorta di carta di identità digitale con codici e password è la banca personale che ogni detentore di queste criptovalute si porta appresso per poi operare attraverso la rete con computer o smartphone per investire, ma oggi sempre più anche per fare acquisti. Attualmente a Padova ci saranno una ventina di attività che accettano questa tecnologia come metodo di pagamento e noi appunto puntiamo al fatto di aumentare il numero di attività che le accettano. Eppure non sono pochi gli scettici, non solo perché le fluttuazioni del valore di queste cybervalute sono molto ampie, ma anche per il timore che questo enorme mercato possa nascondere attività illecite. Ci sono stati studi che hanno dimostrato come le criptovalute siano all'ultimo posto come metodo di pagamento ai fini di compravendita armi o supporto a ciò che è il terrorismo. Certo è un investimento, si dice, ad alto rischio, ma è sintomo di un mercato nuovo, di una scarsa liquidità sul mercato che col tempo dovrebbe rafforzarsi e diventare più stabile. L'obiettivo di questa che è stata definita Accademia del Bitcoin è ora trasportare le criptomonete nel mondo reale, spendibili anche nel negozio sotto casa. E per questo si punta sulla formazione, già al via, il primo corso dedicato alle criptovalute per gli aspiranti broker di Bitcoin.